Amore, tutto bene? Amore? Tutto bene? Stai attento! Ok, continuiamo. C'è qualcuno che vuole parlare con me? Sono da sola qua. Vuoi parlare con me? Lo puoi anche fare benissimo tramite la telecamera che ho in mano. È il Tappa 2, fallo brillare proprio. Poi c'è un altro posto. Dove cazzo posso entrare? Proviamo a entrare così. Lo facciamo piano. Ecco qua così. Mamma mia. Questo è un bagno. Allora? Dai fermo. Qua brilla. Ok. Sei qui con me? Questo è un bagno antico proprio. Amore! Ti sei riuscito a farmi paura, eh? Amore! Vieni qua subito! Sei stato tu? Sei stato tu a fare questo scherzo qui? Sì, è vero, sei stato tu. Sono qua. Amore. Ok. Buonasera. Amore con bagno. No, ancora cucina Buonasera 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.